Uella ragazzi, io sono Calabresso e vi è venuto in questo nuovo video di Fortnite, signori! Siamo in compagnia di Profugo, dai, Profugo dai, ciao Profugo, come stai? Bella, sto bene. Eh, ragazzi, allora, visto che in tanti vi siete lamentati, mi avete detto, eh, ma giochi sempre con quelli scarsi, eh, ma carichi solo le partite dove vinci, ho fatto una ricerca, per questo non sono uscito i video, e ho trovato la persona giusta, che secondo me può battermi, non lo so, ragazzi, non lo so. Io gioco e vediamo, poi, o vinco, o perdo, non me ne frega nulla, perché io gioco, ragazzi, porto il video, se vinco, vinco, se perdo, perdo, la carico lo stesso, parola mia, Profugo, presente, se vince, io la carico senza problemi. Faremo qualche partita di riscaldamento e vedremo un attimino. Intanto invito a lasciare un bel like, seguirmi su Twitch perché la vi si spostaranno lì, eh, contattatemi su Telegram o su Instagram se volete essere scelti per il prossimo uno contro uno, e niente, ragazzi, commentate, lasciate like, quello che volete, iscrivetevi al canale e partiamo subito in creativa con il signor Profugo. Signori, ci siamo, abbiamo fatto qualche partita di riscaldamento, come si usa a dire. E niente, ragazzi, siamo qui, adesso iniziamo la vera e propria battaglia. Ci siamo? Vediamo che sta attivando le hack, ragazzi, sta attivando la hack, ragazzi. Sì, sì, due secondi. Attenzione. Ti bannano, non attivare le hack. È finita, ha confermato l'hamebot. Ci sei? Pronto? Si arriva a tre. Vado, eh, vado. No, cazzo. Era mio. Perché non me l'ha fatto modificare? Eh, gg, cazzo. Eh, poi sono stato coluto qua, gg, cazzo, una zera, come fa? Una zera, una zera, ma ne ho allangato un porco. Ci siamo? Vado. Gli altri. Ah. Una zera, una zera, una zera. Una zera, una zera. Bu, 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 bu. Eh. Madonna, santa, benedetta. Tranquillo, eh. Tutto nella norma. Ti saliva un po'. No, no, tranquillo, puoi spararmi se vuoi. Puoi spararmi se vuoi. Puoi spararmi se vuoi. No, era mia quella, però, eh. Era mia la cupola, gg. Una a uno, una a uno, ragazzi. Una a uno, una a uno. È caduto come un babboide ed è giusto che sia morto. Vado? Vado? Venga, la mar. Sì Sì Madonna Gg cazzo Sono morto come un babboide due volte 2 a 1 cazzo 2 a 1 Oggi ci stava la mia disfatta ragazzi 2 a 1 eh Pronto? Eh Dimmi se c'eri Se no ti faccio Ok ci stava Non è l'ora di un burco Eh Cazzo Come un minato Come un minato Gg Uh Cazzo Mi ha fatto su d'acqua eh 2 a 2 signori 2 a 2 La tensione Si fa sentire Ragazzi vince questa Ha vinto la partita eh Pronto? Noo 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 No cazzo Ho sbagliato Posagliato Grazie a tutti. No. 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 Equilibrata di tutto Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su Twitch Perché i livelli si spostrano lì E scrivetemi su Instagram se volete partecipare anche voi A questi uno contro uno Grazie ancora Profugo E niente, ciao bello, alla prossima Ciao a tutti raga, ciao belli, bacione Ciao a tutti